A innescare quelle che sono sembrate delle esplosioni, lo scoppio di alcuni pneumatici degli autobus parcheggiati nell'area ovest dell'istituto scolastico Rolando da Piazzola. Sono otto i mezzi di Bus Italia completamente distrutti dal devastante incendio scoppiato nel cuore della notte. A dare l'allarme verso le quattro, un abitante che svegliato di soprassalto da un boato, ha chiamato il 112. Con i carabinieri di Piazzola e Cittadella sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco da Padova e da Borgoricco, che hanno lavorato per circa quattro ore per avere ragione del rogo. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri. Nessuna ipotesi per ora è esclusa, ma a far partire le fiamme potrebbe essere stato il cortocircuito della batteria di uno dei mezzi. Autobus di nuova generazione e anche meno recenti, quelli andati a fuoco, parcheggiati in quest'area uno accanto all'altro, posizione che avrebbe favorito lo sviluppo delle fiamme.